Salve a tutti e benvenuti finalmente ad una nuova recensione di quella che è la mia più grande passione, cioè i film horror. Come avete potuto notare, insomma, la sigla, l'intro di questo video è la più grande novità che ho deciso di introdurre nel mio canale dopo tanto tempo, vedete quanto ci vuole per pensare a una novità e cioè quella delle rubriche, non so bene quante ce ne saranno e di che tipo saranno, però credo che sia un modo abbastanza più utile, più ordinato per, insomma, incanalare questi film all'interno dei percorsi, perché diciamo che il grande scopo di questo canale non è solamente quello di farvi conoscere un film o parlare di esso, ma diciamo di cercare di ragionare su cosa sia effettivamente l'horror e perché noi siamo interessati e affascinati dall'horror e quali sono poi tutte le sue sfaccettature, per cui molto probabilmente questi percorsi, che ovviamente potrebbero essere milioni, miliardi dato le tante sfaccettature del genere, servono per mettere un cammino più facile all'interno di questi percorsi. La categoria che oggi voglio presentarvi e con cui inizio il mio nuovo ciclo di recensioni è Cult in the Underground. Cult in the Underground tradotto vuol dire un film cult, quindi un film di culto all'interno del panorama, diciamo underground, del panorama del sottosuolo possiamo dire. Cosa significa? Che esistono dei film, soprattutto prodotti nella decada degli anni 80, ma anche qualcuno negli anni 70, sono film abbastanza misconosciuti, tranne ovviamente qualche eccezione, ma che diciamo nell'underground horror, quindi nel sottosuolo di chi è appassionato di questo genere, sono film di una certa importanza, film che sono divenuti di culto, cioè film che si portano dietro un ricordo abbastanza importante di quello che sono state, soprattutto che hanno segnato un determinato periodo, una determinata epoca e che ancora oggi, diciamo, ne sentiamo l'influsso. Non so se questa possa essere una definizione accettabile di che cos'è un film divenuto di culto, ma possiamo dire che appunto sono quei film film di cui ancora oggi ne parliamo, diciamo citando quelle che sono state le innovazioni che essi hanno portato e soprattutto il perché sono divenuti così famosi. Non so se neanche questa è una definizione accettabile, ma insomma spero che abbiate capito. E io sono andato a spulciare proprio all'interno di questo sottosuolo dei film horror per trovare dei film che diciamo generalmente per il grande pubblico sono rimasti un po' sconosciuti, ma che o sono cult o io vorrei che divenissero cult, perché sono davvero dei film imperdibili, nonché spesso anche introvabili. Per fare un esempio concreto, non so, un film cult potrebbe essere Shining di Stanley Kubrick, un film che tutti conoscono e che quasi tutti possiamo dire ritengono un cult per vari motivi. Mentre un film per esempio Cult in the Underground è il film di oggi, che appunto si intitola in realtà vari titoli. Il titolo originale è Horror Puppet, però è riconosciuto anche come Tourist Trap. Vedete come appunto è un film che pochissimi vanno appunto a conoscere e a ricordare. Però è un film che appunto all'interno della cinematografia horror e all'interno possiamo dire di chi è appassionato del mistero, appassionato della follia. È un film che sicuramente se non è già di culto lo deve diventare perché è un film che ti segna, ti segna nella visione e ti segna anche diciamo nel capire una certa evoluzione diciamo all'interno del cinema, del cinema di genere appunto sporto negli anni 90 e negli anni contemporanei. Per cui vi presento, dopo tanto indugio, il film di oggi, che appunto è un cult in the underground, o meglio per me è un cult in the underground, che è Tourist Trap, oppure meglio conosciuto come Horror Puppet, che è un film del 1979, diretto, scusate se lo leggo ma ha un nome abbastanza impronunciabile, è diretto da David Schmoller, penso si pronuncia così, che è un regista e produttore statunitense, però col cognome tedesco. Parliamo appunto di quello che è la trama di questo film, che è un film abbastanza particolare e vedremo anche soprattutto perché. La trama del film in realtà è molto semplice e diciamo che riprende quelli che sono gli stereotipi di molti film, possiamo dire, attuali, come per esempio Hostel. Cioè un gruppo di giovani ragazzi, penso che abbiano appena 18 e 20 anni, quindi giovanissimi, che decidono di fare un viaggio in compagnia, quindi affittano una macchina e decidono appunto di viaggiare per gli Stati Uniti senza diciamo una meta precisa, ma andando per le strade degli Stati Uniti a vedere paesaggi, a vedere le città e diciamo a fare esperienza. Quindi fin qua nulla di nuovo all'interno, possiamo dire, di quella che è la cinematografia. E questi ragazzi a un certo punto finisce, sta per finire la benzina, quindi hanno bisogno di un distributore e vanno a questo distributore barra officina e si accorgono intanto che c'è un cartello sulla strada che dice per di qua si va all'attrazione delle cascate, non mi ricordo il nome. E il ragazzo, diciamo, uno dei ragazzi protagonisti del film dice, beh andate a vedere questa tourist trap, mentre noi insomma aggiustiamo, cerchiamo di aggiustare la macchina, perché oltre alla benzina c'era anche un guasto. E cos'è una tourist trap? Sostanzialmente in italiano è la trappola per turisti, cioè quelle attrazioni che servono solamente per magnarti i soldi. E tale appunto era questa attrazione sperduta nel deserto che consisteva in un piccolo laghetto con una cascatella dove farsi il bagno. Queste ragazze vanno, si fanno il bagno, questa attrazione è ormai chiusa, quindi sono lì, diciamo, abusivamente e vengono beccati da quello che è il guardiano, il guardiano del posto. Che però, diciamo, non è che più di tanto le sgrida, anzi racconta il glorioso passato di questa tourist trap, mentre le ragazze raccontano quello che è il loro problema. Allora il guardiano decide, diciamo, di aiutarle però c'è bisogno di aspettare, diciamo, perché ormai è notte, bisogna aspettare il giorno dopo per poter, diciamo, riparare la macchina e dunque invita le ragazze insieme ai due ragazzi protagonisti nella sua casa. E qui, diciamo, termina un po' quello che è la normalità di questo film, perché i primi minuti sono essenzialmente noiosi e non dicono assolutamente niente e diciamo che da questo punto in poi abbiamo le innovazioni o almeno adesso magari non ci stupiremo più di tanto, ma ricordiamoci un film del 79, un film peraltro anche low budget, e che vedrete da voi stessi come assegnato comunque anche nel suo piccolo cinematografia divenendo a mio parere un piccolo cult. Nella casa del guardiano, la casa del guardiano è un museo, perché oltre al laghetto un'altra attrazione di questa tourist trap è il museo delle cere in mezzo al deserto, gli americani sempre particolari sono. Questo museo delle cere è molto particolare, per noi che sono rappresentati più di tanto personaggi famosi, c'è il generale Custer come personaggio famoso, ma per il resto sono personaggi abbastanza anonimi, ma quello che colpisce subito l'occhio è che al lato, a un angolo di questo museo c'è la statua di cera della moglie del guardiano, quindi c'è la moglie del guardiano praticamente come statua di cera e già questo particolare è abbastanza inquietante. Inoltre le ragazze vedono dalla finestra del museo che c'è un'altra casa e il guardiano dice questa è la casa di mio fratello che abita qui, però non dovete assolutamente andarci. Nella psicologia ovviamente delle persone quando uno dice non dovete andarci ci vanno subito, quindi mentre intanto una delle ragazze va in esplorazione mentre le altre rimangono dentro il museo delle cere perché non vogliono far arrabbiare il guardiano, non vogliono contraddire all'ordine, questa qui entra e scompare, non si vede più. Quindi dopo una serie insomma di indugi e cose varie il gruppo delle ragazze e poi successivamente dei ragazzi entrano in questa casa e quello che vedono è veramente folle, cioè il fratello del guardiano è un pazzo scatenato che con una maschera di cera in faccia, che raffigura praticamente un uomo abbastanza grassoccio e con un sorriso stampato in volto, tortura o meglio cattura le persone che entrano in questa casa e le tramuta in stato di cera, cioè le uccide soffocandole e le fa divenire statue di cera. Ma la cosa è ancora più inquietante perché il nostro folle ha un potere paranormale che è il potere della terra cinesi, cioè lui è in grado di spostare gli oggetti col pensiero e quindi di far muovere questi manichini e queste statue di cera che sono presenti sia nel museo sia nel suo appartamento. E quindi vediamo delle scene abbastanza inquietanti di questi manichini che già di pazzi, che già di per sé insomma mettono angoscia e li vediamo muoversi assolutamente da soli. In più appunto a un certo punto compare la figura di questo folle con questa maschera, col sorrisone stampato in fronte e che diciamo lasciano veramente inquieto lo spettatore. Alla fine diciamo che, io raccontare il trame faccio schifo ma è meglio ovviamente se ve lo guardate poi il film, a un certo punto succede che rimane solo una ragazza sostanzialmente, perché gli altri sono stati tutti catturati. Rimane solo una ragazza e il guardiano, quindi il fratello del folle, tra virgolette si innamora di questa ragazza perché le ricorda la moglie. A un certo punto però la ragazza decide di andare a trovare i compagni nella villa perché nessuno ritornava e ovviamente lei aveva degli strani presentimenti. E lì incontra appunto il fratello folle, ma riesce a scappargli e si imbatte casualmente nel guardiano che la salva. Ma in realtà, e qui faccio ovviamente lo spoiler del finale per cui chi non ha visto il film se l'andasse a vedere, perché il finale è veramente molto inquietante, si scopre che il guardiano stesso è suo fratello. Un po' una trama alla psycho. Cioè lui aveva veramente un fratello che però era morto, quindi lui che soffre ovviamente di una malattia psichica fa finta ancora di avere il fratello e fa finta proprio che sia il fratello ad uccidere e a trasformare in stato di cera in vari malcapitati, ma in realtà è lui stesso, come se avesse diciamo una doppia personalità. In realtà però essendo innamorato proprio della ragazza poiché gli ricorda la moglie, non vuole trasformarla in una stato di cera, ma vuole appunto avere, possiamo dire, una relazione morbosa con lei. Ma la donna ovviamente non accetta, riesce a scappare e poi ad uccidere l'uomo. Ma al di là di questo finale io voglio soffermarmi su alcuni particolari abbastanza macabri e che fanno effettivamente di questo film un cult in the underground. Innanzitutto l'abilità, diciamo, del regista di creare un ambiente assolutamente macabro, perché comunque una casa che viene trasformata in un museo del lecere in cui, diciamo, i pupazzi, le statue, sono effettivamente delle persone vere trasformate in statua, quindi anche la statua della moglie è effettivamente la moglie reale, era la moglie reale del protagonista, del guardiano, ma che poi dopo che è stata morta è stata, diciamo, eternizzata in una statua di cera. E quindi già c'è questo particolare inquietante perché tu entri e sei trasportato in questo ambiente fatto di pupazzi parlanti, perché di fatto è lui stesso che gli anima, non c'è alcun meccanismo, e poi c'è questo appartamento dove dovrebbe abitare il fratello ma che in realtà è lui stesso, quindi oltre all'ambiente macabro, oltre all'ambiente che dà inquietudine c'è una rappresentazione della follia che è assolutamente folle anch'essa. Cioè il bello, diciamo, di questo film e l'emozione che gli trasporta è proprio il costruire la follia e il far vedere quanto una persona può diventare, può essere, anzi può essere folle e a quale grado di follia arriva veramente la mente umana. E questa è soprattutto la bellezza del film, cioè ti avvolge in questo mondo di manichini per farti vedere proprio, per mettersi al centro, per focalizzare l'attenzione su quella che è la grande follia, diciamo, del personaggio che in realtà oltre a, diciamo, avere questa doppia personalità in realtà proprio indossa una maschera da manichino, quasi fosse anche lui, diciamo, una statue di cera quindi c'è un po' questo mondo che ruota intorno proprio ai pupazzi, ai manichini e dunque è tutto abbastanza inquietante, ecco. L'ambiente è abbastanza anche proprio sporco, ma non sporco di sangue come potrebbe essere, non so le camere di tortura appunto del prima citato Hostel oppure le stanze del film non aprite quella porta, sia l'originale che il remake sporco nel senso di crudo perché, diciamo, che mette in luce attraverso queste maschere di cera attraverso proprio questi pupazzi, mette in luce proprio la pazzia dell'uomo e credo che sia questa una delle genialità del film quella di farti penetrare all'interno della follia di questo personaggio e poi di buttarti in questo mondo macabro, eccetera, dove si sussegue questa storia, possiamo dire, di malattia e di completa follia, dove a un certo punto tu arrivi al finale, scopre, diciamo, che in realtà questo fratello non è reale ma è appunto il guardiano stesso che si impersonifica appunto con suo fratello e che ha sviluppato un rapporto morboso proprio con tutti questi manichini, tutti questi pupazzi specialmente quello della moglie, quindi c'è tutta questa tensione non soltanto macabra ma direi addirittura morbosa che ti lascia proprio incollato allo schermo per quanto, ripeto, la storia sia abbastanza semplice perché, riassumendola, è un gruppo di ragazzi che si imbatte in un folle psicopatico, crede di essere suo fratello e che uccide le persone tramutandolo in stato di cere inoltre ha un potere appunto paranormale che gli permette di muovere i manichini ma alla fine insomma viene, tra virgolette, sconfitto questa è la trama del film, a dirla così sembrerebbe una schifezza sembrerebbe, diciamo, un bimovie da quattro soldi e che non meriterebbe neanche di essere visto ma invece il regista Schmoller sembra un calciatore tedesco, non so cosa dirvi il regista calciatore tedesco invece riesce a inserire in questa trama abbastanza, diciamo, normale all'interno, diciamo, dei film horror riesce ad inserirci questi particolari e questa vicenda macabra e folle che veramente trasforma il film ricolora il film in un'avventura da bimovie in un'avventura, insomma, dei classici giovani che incontrano il pazzo in un vero e proprio piccolo capolavoro perché sembra davvero di entrare all'interno di questo di questo alter ego della realtà cioè il mondo fuori e la realtà mentre quando si entra in questo museo delle cere poi nell'appartamento del finto fratello si entra, secondo me, nel mondo delle bambole si entra davvero in un'altra realtà che ha come principi fondanti la follia quindi mentre fuori c'è effettivamente il mondo che noi tutti conosciamo costituito dai suoi principi, dalle sue regole, eccetera il mondo invece di questo personaggio è completamente diverso è appunto il mondo delle bambole il mondo dei pupazzi ed è il mondo plasmato dalla sua fantasia folle dalla sua pazzia e l'horror sta proprio in questo nel rappresentare e nel farci vedere tutte le sfumature appunto della sua follia che ha creato questo mondo fantastico basato, diciamo, sul suo modo di vedere il mondo sul suo modo di concepire quella che è la realtà e dunque è un film proprio di follia è un film interessantissimo proprio perché ci mostra i colori le sfumature di questa follia all'interno di questa casa delle bambole come mi piace chiamarla abbastanza inquietante un'altra nota di merito per questo film è la colonna sonora perché come dissi in una recensione di un anno fa i film precedenti i film horror, diciamo, degli anni 70, anni 80, eccetera davano un'importanza fondamentale alla colonna sonora mentre adesso si tende a dare i film attuali tranne ovviamente qualche eccezione tendono ad avere una colonna sonora che è sempre la stessa violini che a un certo punto vanno in climax per creare la scena di tensione qualche nota di pianoforte e finita di la colonna sonora ripeto, tranne qualche eccezione mentre questo film ha una colonna sonora fantastica che è stata composta da Pino Donaggio quindi da un compositore italiano questo è sicuramente una nota di merito per il nostro paese che in questi anni sfornava dei capolavori veramente importanti e la musica di Pino Donaggio ha una particolarità particolare scusate il gioco di parole che è quella di riprodurre musicalmente questa casa delle bambole dove l'assassino vive perché tutta la musica è una musica folle cioè riproduce i suoni dei manichini è una musica possiamo dire amusicale una musica fatta di dissonanze fatta di rumore perché appunto il film inizia con questa musica che riproduce il suono proprio non proprio dei carillon ma di quelle attrazioni per esempio del circo dove spesso si sente quella musichetta spesso ripetitiva con questi suoni abbastanza striduli e il film inizia così dopodiché appunto la musica va a riprodurre quelli che sono i suoni delle marionette i suoni dei burattini i suoni dei pupazzi e quindi a proiettarci non solo visivamente ma anche attraverso gli altri sensi in questo mondo folle delle bambole e questa sicuramente è una particolarità perché se tu riesci a catapultare lo spettatore a 360 gradi in un mondo folle attraverso le luci i colori le immagini la storia di questo personaggio la musica soprattutto riesci veramente a creare un'unitarietà ed è questa unitarietà a dare una diciamo impronta diversa a questo film perché davvero mi è capitato poche volte di vedere una colonna sonora che riproducesse praticamente l'ambiente l'ambiente di questa casa delle bambole di questo museo delle cere un po' come il grande capolavoro di Flaubert Madame Bovary che appunto riproduce attraverso il paesaggio gli stati d'animo di Madame Bovary stessa cosa ha fatto Schmoller quello di riprodurre o meglio Schmoller con la musica di Pino Donaggio di riprodurre diciamo fedelmente questo ambiente in tutte le sue sfaccettature quindi sia dal lato visivo sia dal lato sonoro e quindi sembra davvero di entrare a questo punto non solo in una casa delle bambole ma davvero in un circo del puro terrore perché cosa c'è di più spaventoso della follia umana questo è poi il grande appunto forte del film quello di farvi vedere quanto sia spaventoso quanto sia morbosa la follia umana più di mostri più di creature fantastiche più di qualsiasi altra situazione la psiche umana va davvero oltre ogni confine e questo film ripeto è un piccolo copolavoro almeno per me perché è riuscito da una trama diciamo semplice perché è una trama che potrebbe in alcuni punti è somigliante sia a Hostel sia a non aprite quella porta ma sia a tantissimi altri altri film nonché in parte anche al famoso film La Maschera di Cera sia l'originale che il remake quindi appunti diciamo in comune con tantissimi altri film ma la genialità di Schmoller adesso l'ho imparato è proprio quella di catapuntare lo spettatore in questo circolo in questo cerchio fatto di immagini suoni e follia e questo è l'essenza del terrore che questo film trasmette e io ve lo consiglio proprio per questo ve lo consiglio innanzitutto da guardarlo da soli perché a mio parere con gli amici perderebbe un po' perché se uno va a vedere un po' qualche errore di regia o comunque la trama in sé rimarrebbe un pochino deluso invece ve lo consiglio di guardare da soli se siete davvero appassionati di horror per vedere queste piccole sfumature piccole grandi sfumature all'interno di questo film che lo rendono davvero geniale soprattutto sia la figura di questo serial killer costruita davvero benissimo e poi l'ossessione per le bambole è fantastica sia proprio per il lato musicale che è veramente geniale quello di riprodurre i suoni delle marionette in un film che parla di un pazzo che praticamente trasforma la gente in pupazze in stato di cera in marionette quindi io ve lo consiglio perché secondo me è veramente una piccola perla all'interno proprio dell'underground quindi del del panorama sotterraneo del film horror ma davvero merita perché rappresenta la follia in tutti i suoi campi perché la follia umana non è soltanto qualcosa di visivo non è soltanto qualcosa che può essere percepito con un solo senso ma deve essere tutto e questo film riesce davvero a a cogliere l'Elsa a cogliere tutta l'essenza della follia di questo uomo e quindi questo era tourist trap o meglio horror puppet e spero insomma che questa recensione vi sia piaciuta la prossima volta la prossima recensione non andrò non mi diluncherò con le trame perché faccio schifo a raccontarle ma passerò direttamente ai motivi per cui questo film è inserito in una tal categoria e i motivi per cui non solo perché horror ma soprattutto come questo film interpreta l'horror e horror puppet interpreta appunto l'orrore come la rappresentazione totale a tutto tondo della follia e con questa frase io vi lascio spero insomma che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad una prossima recensione arrivederci